Anche oggi i cristiani sono vittime di gente che odia Gesù Cristo e il martirio non è una cosa del passato. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia del Messe del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando la pagina del Vangelo di Marco che racconta la fine tragica di Giovanni Battista. Il precursore, l'uomo più grande, nato da donna secondo Gesù, che mai ha tradito la sua vocazione, cosciente che il suo dovere era soltanto annunziare la prossimità del Messia, consapevole di essere la voce soltanto perché la parola era un altro, finisce la sua vita come il Signore con il martirio dopo la prova dell'annientamento del carcere e dell'umiliazione di fare il predicatore di corte ad un re mediocre. Primo penso ai martiri nostri, ai martiri di nostri giorni, quegli uomini, donne e bambini che sono perseguitati, odiati, cacciati via dalle delle casse, torturati, massacrati. E questo non è una cosa antica. Oggi succede questo. I nostri martiri che finiscono la sua vita sotto l'autorità corrotta di gente che odia Gesù Cristo. Ci farà bene pensare ai nostri martiri. Oggi pensiamo a Paolo Michi, a quello che è successo nel 1600, pensiamo a quello di oggi, del 2015. Anche io finirò. Tutti noi finiremo. Nessuno ha la vita comprata. Anche noi, volendo o non volendo, andiamo sulla strada dell'annientamento esistenziale della vita. E questo, almeno a me, fa pregare che questo annientamento si assomiglie il più vicino al Gesù Cristo, all'annientamento di Lui.